Ciao a tutti, mi chiamo Maria Rosaria Bosco e vengo da Pagani, provincia di Salerno. Ho 26 anni e al momento vivo a Vignola, provincia di Modena. Ho studiato canto al Conservatorio di Napoli e da un anno partecipo a delle masterclass di recitazione. Ho partecipato anche ad un documentario sulla violenza di genere e queste sono le mie mani. Questi i miei profili Grazie a tutti.